Rose, rose perché ho comprato stasera Di solito si esibisce al tramonto con il calar del sole, convinto gli animi sono più ben disposti, soprattutto quelli delle ragazze i cui cuori sono tutti da conquistare. E allora perché non farlo con una serenata, di quelle qualcuno ricorderà che si sentivano un tempo e che canta ancora oggi Mario Cerra, calabrese di origine ma accorato da quasi 40 anni. All'amore lui ci crede, per noi si è esibito in un pomeriggio assolato accompagnato dalla chitarra elettrica. Non manca niente, gli ingredienti sono quelli classici, l'innamorato con i fiori e la ragazza sul balcone. Di solito ci chiama lo sposo, saperlo organizzato sotto un bellissimo balcone dove c'è questa mia grinta di simpatia, oggi ci vuole la simpatia di Mario Cerra, no? La simpatia. Non avendo la possibilità economica, le facciamo ugualmente. In tempi di sentimenti inariditi, una serenata consiglia a Mario e quello che ci vuole. A stenersi per di tempo, dice, e i ragazzi, comparse per l'occasione, sembrano gradire e come. È qualcosa di classico, stile vecchio, da fare una ragazza per farla innamorare. A te piacerebbe ricevere una serenata dal tuo fidanzato? Certo, è una cosa bella. Questa scende, eh?